Anche la Confcommercio di Nuo e Rogliastra ha aderito all'iniziativa a livello nazionale dell'associazione denominata Bollette in vetrina, i clienti devono sapere. Aumenti alle stelle della bolletta elettrica, ma qual è la situazione? La situazione è gravissima perché, come potete notare già dalle bollette a casa vostra, c'è stato un incremento enorme. Tutto questo sta succedendo anche nelle aziende, abbiamo riscontrato incrementi enormi al 331% tra luglio dello scorso anno e luglio di quest'anno. Per darvi solamente un esempio, questa è una pasticceria che ci ha sottoposto questa bolletta con questo incremento importante. Alberghi abbiamo aumenti medi del 202%, abbiamo il 160% di altre attività di carattere di genere alimentare, insomma è un massacro, detto sotto questo punto di vista. Però non possiamo esimerci dal dire che il cliente prima di tutto deve essere informato, deve sapere cosa succede e se lentamente, pian piano, il commerciante, l'artigiano, l'imprenditore riversa questi aumenti sui prezzi, la causa è esattamente questa. Cosa si può fare? Noi dal nostro piccolo possiamo ovviamente sensibilizzare le aziende, sensibilizzare i consumatori, è certo che le decisioni stanno a ben altri livelli, stanno a livello nazionale, stanno a livello internazionale, abbiamo visto ieri che la Germania ha detto che ci sta a mettere su un cosiddetto price cap al gas, vediamo che effetti avrà, però già tra ieri a oggi l'effetto è stato che il gas si è ridotto di circa il 19-70%, quindi significano molte cose questi dati, che ci sono speculazioni da un lato, ma che comunque non è effettivamente quel che si vede, quindi bisogna entrare nei meccanismi di mercato, speriamo.